presenta columnas, pilares, bovidas e occhinas di gran manor architettonico a bordo, la Consiglio Cervé, vestige del Palazzo di Corimera di Francia la Consiglio Cervé, diventò prigione sotto la Leorussio la sala delle guardie e la sala dei gendari presenta una architettura degna di interesse con le loro colonne, pilastri, rolt e ogie la ruota di sul della Pondscilla Riri, per la carta dei compagni di Fransi gialliarato alla politica di fiducia di fortale delle guardie dei figli di Brunson all'interesse di Brunson appartiene il parigiata di Marie di Bordeca che stai vivendo da항a dove anni fa c'e il progettato di Brunson i per occhino la Pondscilla L'Île de la Cité 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 L'Île...